è la montagna più alta d'europa misura 4810 metri è il monte bianco di natura granitica e irto di picchi rocciosi e creste fu scalato per la prima volta all'8 agosto del 1786 a riuscire nell'impresa furono il medico michel paccar e il cacciatore di camosci jacques balmont che rimasero in vetta per poco più di mezz'ora la zona è una delle più vaste aree alpine ricoperte da ghiacci occupando 165 chilometri quadrati i più estesi sono localizzati sul versante francese dove i pendii sono meno ripidi grazie a tutti grazie a tutti